E' con grande gioia che mi voglio unire a questa grande schiera di autori e cantatori che in questi giorni stanno festeggiando con voi, figli di San Paolo, i 60 anni della vostra produzione. La fede è stata cantata, annunciata, testimoniata attraverso l'arte e la bellezza, la bellezza di Dio, la bellezza del suo amore è stata cantata, la bellezza della sua misericordia. Ecco, quante canzoni sono riuscite ad esprimere tutto questo e noi abbiamo dato voce in fondo al Vangelo. Grazie a voi, quindi figli di San Paolo, per il coraggio e la pazienza che avete trovato in questi anni. Ci avete coinvolti, ci avete fatto crescere, io non dimenticherò mai, lo voglio esprimere davvero con gratitudine, tutte le volte in cui voi mi avete criticato per migliorare il testo, per migliorare la melodia e se non avessi avuto quel pizzico di umiltà in fondo non sarei andato avanti. Ora invece mi ritrovo qui ad avere in qualche modo anche un nome dentro quello che è l'esperienza musicale italiana e lo devo veramente a voi. E vi ringrazio perché noi in fondo siamo stati, siamo ancora in questo mondo, segno di una cultura che nasce dal Vangelo, una cultura che non vuole porre nella ragione, solo nella ragione, il centro della vita dell'uomo, ma anche nei sentimenti, nella fede, nel cuore dell'uomo stesso. In fondo noi abbiamo cantato la vita, abbiamo cantato i sentimenti più profondi che l'uomo possa, può esprimere dentro di sé attraverso la musica. Ecco tutto questo diventa gratitudine, diventa condivisione e per questa ragione che io voglio dire grazie a voi ancora una volta per averci coinvolti in questa avventura meravigliosa e vogliamo anche cogliere l'occasione per dire Buon Natale a voi e a tutti quelli che ci ascolteranno perché l'incontro con Cristo che si fa uomo nella storia possa determinare davvero il corso di una storia che sempre di più si riempie di no verso Dio, di no verso Cristo, di no verso il Vangelo, perché le nostre canzoni possano risvegliare il sì dell'uomo. Ci scambiamo quindi gli auguri di un Santo Natale. Grazie. 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 Grazie.